Pio Greco per il telegiornale speciale News questa domenica siete qui per questa Biciclettiamo che ha avuto successo su Facebook, aspettiamo i dati reali a breve, hai messo un punto interrogativo, perché? Beh intanto perché è una proposta, noi invitiamo tutta la cittadinanza a passare una domenica sorridente, ecologica, pedalando per la città e soprattutto per trasmettere un messaggio che Cisignola può essere più bella, più pulita e può essere migliore. E mi sembra che c'è vita sulla terra. Per l'altro sappiamo che sarà un percorso lungo le cose più importanti di Cisignola e voi venirete presso una pista ciclabile che è poco utilizzata. Sperando che sia l'inizio di un cambiamento, nel senso che Cisignola ha assolutamente bisogno di piste ciclabili, se dovessimo riuscire tutti quanti insieme a fare una educata pressione affinché a Cisignola ci possano essere più piste ciclabili e un gran bene. Grazie! Grazie a te! Oh, perfetto mio, grazie!